ciao ragazze e bentornate sul mio canale il video di oggi come avete visto letto dal titolo è tutto dedicato allo shopping che ho fatto recentemente per le mie bimbe le mie gemelline è uno shopping che ho fatto nel pre parto quindi prima di partorire per preparare praticamente il corredino essendo che sono gemelle c'era diciamo la probabilità che almeno una delle due fosse un pochino sotto peso e quindi ho comprato qualche abitino quindi dei body e delle tutine di taglia 44 che quindi sono quelle proprio taglia 00 per alcune marche non ne avevo neanche della mia figlia precedente e quindi ho dovuto comprarle nuove questo tipo di abbigliamento per prematuri lo potete trovare sul sito di hm a un prezzo abbastanza abbordabile oppure da prenatal esistono anche poi dei siti specifici che ho trovato online però non mi piacevano granché di conseguenza ho optato sempre per hm che come sapete è un marchio che mi piace molto per l'abbigliamento per bambini e neonati infatti qui sul canale porto spesso dei video di questo genere questo set di tre bodini l'ho comprato appunto su hm come vedete è molto carino ed è fatto di cotone organico dopodiché sono andata in negozio da prenatal e essendo che era il periodo dei saldi non so se era quello il motivo comunque non era molto rifornito per quanto riguarda il reparto di prematuri infatti c'erano soltanto questi due body a maniche lunghe che comunque mi servivano perché nascendo in una stagione fredda sono assolutamente adeguati sono fatti di un cotone spesso 100% cotone naturale e come vedete sono tutti bianchi con dei disegnini al massimo di colore giallo di conseguenza sono considerati unisex e non avevano però una linea specifica per il maschietto la femminuccia una cosa che mi piace e che considero quando acquisto abbigliamento per neonati è il fatto che ci sia o non ci sia l'etichetta come avete visto sia i body di hm che questi qua di prenatal non hanno l'etichetta ma hanno tutte le informazioni stampate quindi li preferisco perché sicuramente danno meno fastidio a contatto con la pelle come potete vedere questi due body l'ho pagati molto poco perché da prenatal per chi non lo sapesse ci sono degli sconti in automatico per chi è possessore della vip card io ce l'ho e inoltre in questo periodo come vi dicevo c'erano anche i saldi quindi ho pagato tutto veramente poco quindi vi consiglio di fare dei giri soprattutto nel periodo dei saldi sempre qui in questo negozio da prenatal queste sono due tutine che ho pagato mi sembra 19 euro forse non erano in saldo ed erano le uniche anche in questo caso della collezione del prematuro da prenatal come vedete sono bianche di cotone spesso comunque adeguato per la stagione invernale se siete alle prime armi vi consiglio come in questo caso queste tutine che vedete di prendere dell'abbigliamento con i bottoni sul davanti perché sono più facili da chiudere quindi vi ritroverete meglio più a vostro agio per vestire il vostro neonato queste tutine unisex hanno tutti questi bordini con le stelline o comunque dei disegnini sono molto carine e fini e devo dire che mi piacciono vederle così mi sembrano molto molto piccole quindi vedremo in questo video state vedendo che le sto guardando praticamente per la prima volta quindi devo ancora staccare l'etichetta e lavarle prima di poterle portare in ospedale ovviamente questo è un consiglio che vi do cercate di lavare tutto l'abbigliamento del neonato comunque dei primissimi mesi prima di farglielo indossare poi ho comprato sempre qualcosina da prenatal però non più abbigliamento come dire body e tutine quindi intimo ma ho preso per un prezzo di soli 6 euro come potete vedere quindi scontatissimo sempre perché ero nel periodo dei saldi delle tutine intere che in alcuni casi vengono anche chiamate pigiamini in ciniglia sempre perché andrò a partorire in una stagione fredda in questo caso come vedete i bottoni sono sulla schiena e quindi può essere un pochino più scomodo da vestire però per fortuna ci sono i bottoni al cavallo e quindi per il cambio pannolino è sicuramente una cosa migliore mentre quest'altra tutina che ho sempre preso per 6 euro da prenatal ha tutti i bottoni sul davanti quindi molto facile da chiudere e ha sempre i bottoni al cavallo molto semplice per cambiare il pannolino in questo caso non c'è il colletto a differenza dell'altra mi piacevano tutte e due color setto comunque come colori mi sembravano carine e anche questa qui verde è in ciniglia quindi adeguata per l'inverno come avete visto queste due tutine sono taglia 50 quindi non sono per prematuro ma proprio per la nascita al primo mese di un neonato a termine quindi in realtà dovreste vedere sulle taglie più che altro l'altezza oppure i chili se volete essere precise però da prenatal come vi dicevo all'inizio purtroppo per i prematuri avevano soltanto i due body e le due tutine di cotone che vi ho fatto vedere poco fa quindi devo ammettere che non è stato semplice trovare qualcosa per prematuri ora per fare il corredino io mi accontento solo di queste cose qui inoltre ho ancora tantissimo abbigliamento della mia prima figlia poi strada facendo se mi accorgo che mi mancherà qualcosa lo comprerò nel mentre diciamo che essendo arrivata al terzo o quarto figlio non faccio più come all'inizio o comunque come la prima dove mi ero comprata al mondo prima della nascita ho capito che alla fine sono cose che si possono comprare anche strada facendo poi sono andata da Blue Kids come state vedendo adesso e ho preso due tutine in questo caso sempre taglia 50 quindi primo mese o comunque nascita di neonato a termine e anche qui c'erano i saldi quindi le ho prese scontate al 30 oppure al 50% sono sempre due tutine in ciniglia che comunque mi verranno sicuramente comode alla nascita per una delle due o magari per tutte e due mi auguro o comunque sicuramente per più avanti sempre da Blue Kids ho trovato anche questa tutina nei colori un pochino più vivaci e a righe questa qui invece è una di quei modelli con i bottoni sulla schiena e anche i bottoni sul sederino per il cambio del pannolino quindi questo tipo di chiusura diciamo non è molto pratica soprattutto per chi è alle prime armi o almeno questo lo dico per quanto riguarda la mia esperienza adesso sinceramente non ci faccio neanche quasi più caso quindi questi in realtà erano un pochino gli acquisti che ho fatto prima della nascita però non ho esagerato perché appunto poi avrò tutti i vestiti della mia prima bambina questa mi piaceva molto vedete che è taglia 0,1 e corrisponde a un neonato di 50 cm ovviamente se avete una gravidanza gemellare come la mia può essere che una o tutte e due i bambini non raggiungano alla nascita i 50 cm quindi queste tutine potrebbero essere grandi poi sempre da Blue Kids ho preso questi due body a maniche lunghe li ho presi in taglia 0,1 perché Blue Kids non tiene una linea da prematuro forse OVS la tiene nella linea fagottino ma non ho trovato niente i due body erano appunto li vedete rosa e uno bianco con i fiorillini rosa questi nonostante fosse il periodo dei saldi non erano in sconto perché fanno parte della collezione continuativa io generalmente i body a maniche corte in estate oppure a maniche lunghe in inverno li metto sempre al neonato sotto alla tutina di ciniglia o di cotone poi ho preso due paia in modo da averne uno a testa di calzine di cotone senza elastico queste anche le metto sempre sotto alle tutine sia di cotone che di ciniglia a seconda della stagione quindi questo era tutto lo shopping che ho fatto per le mie bambine per le mie gemelline spero che vi sia piaciuto e che possa avervi dato qualche ispirazione soprattutto se siete nella mia situazione sicuramente più avanti farò ulteriore shopping perché come sapete mi piace molto comprare l'abbigliamento per neonati e noi mamme si sa che ci sbizzarriamo in questi casi quindi seguitemi qui sul canale se vi piacciono i video di questo tipo spero che appunto vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like se vi piace questo genere di video per vederne altri vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto adesso vi saluto e ci vediamo sabato prossimo come sempre con un nuovo video ciao ciao